Chiesto di intervenire la deputata Meloni, mia facoltà. Prego. Colleghi, per favore. Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati. Potrei giustificare così, Presidente Draghi, la scelta di Fratelli d'Italia, unico partito in questo Parlamento commissariato, che oggi voterà contro la fiducia al suo Governo. Ma la verità è che non avevamo scelta. Per un fatto di coerenza, sì, certo, per un fatto di serietà, esattamente come nessuno si fiderà più di qualcuno che sottoscrive un contratto e poi non lo rispetta, io penso che allo stesso modo i cittadini debbano diffidare di partiti che non mantengono la parola data. Ma a fondo c'è anche una grande questione politica che in troppi fanno finta di non vedere. Se anche Fratelli d'Italia fosse entrata nel suo Governo, l'Italia sarebbe stata protagonista di una, diciamo, di una duplice anomalia. Unico Paese europeo ad avere alla guida del proprio Governo una persona che non è stata né direttamente né indirettamente legittimata da un voto popolare e unica democrazia al mondo senza un'opposizione parlamentare, il che avrebbe avvicinato sinistramente l'Italia più alla Corea del Nord che all'Occidente e avrebbe finito per indebolirci tutti, avrebbe finito per indebolire anche lei. La nostra è stata una scelta ponderata, certo scomoda, ma ponderata.